Con questa calura tutto è scomparso dietro la pioggia, solo là. Lasciò nell'aria pesante dei briscioli di suono. Caro Bontemperdi, tu che sai aspettare molti treni in piccole stazioni, tu puoi trovare l'origine del suono in questa campagna. Sembra avvenire dalla chiesa della natura, come dice il nonno Antersen. Antersen, tu che sai aspettare molti treni in piccole stazioni. Caro Bontemperdi, cosa? Ah, chiunque non abbia viaggiato molto e non abbia aspettato molti treni in piccole stazioni non capisce queste cose. Eh sì, chiunque abbia viaggiato ed aspettato molti treni in piccole stazioni capisce quelle immagini. Caro Bontemperdi, tu hai fatto il giro del mondo. Chiunque abbia aspettato molti treni in piccole stazioni capisce quelle immagini. Solo i briscioli della campana. Qui c'è una via nel vento. Il primo girasole italiano in Russia. Il primo girasole italiano in Russia. Grazie a tutti.